1.300 corse soppresse nel 2018. I dati raccolti dal Movimento 5 Stelle riguardano i treni gestiti direttamente dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Fer e Tipper. Il flop di Buonaccini è evidente, tuonano Silvia Piccinini e Davide Zanichelli, rispettivamente consigliera regionale e portavoce in Parlamento dei Pentastellati. Dopo i ritardi dei convogli, 115.000 minuti lo scorso anno sulle nove linee regionali, i 5 Stelle tornano ad attaccare la Giunta sul fronte dei trasporti ferroviari. Nel dettaglio, secondo i dati forniti da Fer e raccolti da Piccinini, in 12 mesi sono state 1.364 le corse cancellate che hanno lasciato a piedi pendolari in Emilia-Romagna. In media 151 corse saltate all'anno per ognuna delle nove tratte gestite dalla Regione che si trovano prevalentemente in Emilia, con un aumento del 5,54% rispetto al 2017 e delle 25% rispetto al 2014. Alcune linee registrano in media una corsa saltata al giorno, ad esempio la Modena-Sassuolo, con 361 corse cancellate nel 2018 e un peggioramento del 45% rispetto all'anno precedente. I grillini sottolineano che le cause delle cancellazioni sono legate soprattutto al materiale rotabile e alle infrastrutture. Scrivono in una nota, crediamo che le responsabilità della Regione davanti a questo ennesimo disastro della nostra mobilità ferroviaria siano evidenti.